buongiorno a tutti sono Sharon Campolongo dell'ufficio stampa di top doctors oggi siamo in compagnia del professor Claudio Manna specialista in ginecologia infertilità e procreazione medicalmente assistita inoltre direttore del centro biofertiliti di roma parleremo oggi della qualità e personalizzazione delle terapie buongiorno professore un piacere poter contare sulla sua collaborazione grazie buongiorno a tutti grazie mille a lei iniziamo subito con la prima domanda cosa si intende per personalizzazione della terapia ecco intanto un'osservazione molto semplice ognuno di noi è diverso dunque anche le coppie infertili sono diverse una dalle altre quindi che cosa ne consegue che quando noi cerchiamo di fare una diagnosi sulla causa della terapia e dobbiamo precisare esattamente il più possibile qual è la causa della terapia faccio un esempio se la causa è l'endometriosi e bisogna sapere che ci sono tanti tipi di endometriosi quindi non basta dire c'è l'endometriosi bisogna capire quale tipo di endometriosi c'è e allora sulla base di una veramente precisa diagnosi si fa una terapia il più possibile mirata per quella situazione specifica che non è solamente genericamente la diagnosi ma che anche l'età che anche la situazione generale della coppia compreso l'uomo che anche per esempio anche l'atteggiamento un pochino psicologico con cui la coppia affronta il problema quindi personalizzare significa essere attenti a tutte queste cose e poi proprio fare un programma preciso ad hoc per quella specifica coppia che è unica non è mai uguale alle altre certo professore perché è così importante in caso di infertilità e pma beh perché l'infertilità è una condizione già molto particolare dove ancora ci sono cose che non si conoscono e più si approfondisce bene e in modo personalizzato la diagnosi più si può fare una terapia mirata in particolare per la procreazione medicalmente assistita questo è valido ancora di più purtroppo a volte si tende a fare dei protocolli unici per tutte le coppie in realtà e diciamo che il il gruppo delle coppie infertili è costituito da varie popolazioni quindi il protocollo non può essere unico ma deve essere un protocollo adattato a ciascuna popolazione o a gruppo al quale appartiene la coppia infertile voglio dire che se un centro fa un protocollo unico per tutti beh potrebbe andar bene per il gruppo forse il più rilevante quello centrale ma poi non andrà perfettamente o non andrà affatto per quei gruppi di persone che stanno al di fuori diciamo così di questo gruppo centrale e purtroppo la coppia non sa a priori prima di entrare se appartiene a questo gruppo centrale o appartiene a quelli laterali quindi bisogna personalizzare la terapia con protocolli mirati sin dall'inizio proprio per fare in modo che tutte le persone appartenenti a tutti i gruppi di coppie infertili possono avere il massimo del risultato proprio studiando e attuando il protocollo più adatto per loro che non è solo il protocollo di stimolazione ma è anche la preparazione che avviene prima di fare la stimolazione vera e propria della pma proprio per rendere sia la donna che l'uomo più adatti a rispondere meglio a tutta la terapia che è stata ideata e quindi ad avere il massimo diciamo così dei risultati ecco questo in generale è molto importante quindi non facciamo protocolli standard ma facciamo sempre protocolli assolutamente personalizzati per ognuno femmina e maschio perfetto e professore in che modo viene personalizzata una terapia? Beh come dicevo prima è molto importante indagare bene sia la donna che l'uomo faccio un esempio ecco nella donna indagare bene non solo la causa ma anche la riserva ovarica perché da quella dipende molto il tipo di farmaco e la dose che noi dobbiamo usare per la stimolazione che poi per esempio facciamo nella fecondazione assistita cioè nella pma vedere se c'è insulino resistenza che tipo di endometriosi è se ci sono una condizione di stress molto forte insomma tutte queste cose vanno curate bene prima in modo da fare arrivare sia la donna che l'uomo nella migliore condizione faccio un altro esempio nell'uomo lo spermiogramma è molto importante e quando c'è un problema a livello dello spermiogramma questo bisogno cercare di curarlo prima al massimo anche se si deve fare la fecondazione assistita cioè la pma perché non basta dire ecco tanto facciamo la pma quindi anche se ci sono dei problemi a livello dello spermiogramma li bypassiamo li superiamo ma non è esattamente così perché una cosa è diciamo così utilizzare uno spermiogramma con dei problemi un'altra cosa è utilizzare uno spermiogramma migliorato perché questo darà dei risultati in più inoltre quando noi abbiamo scelto il protocollo di stimolazione lo dobbiamo attuare in una maniera personalizzata che cosa vuol dire dobbiamo essere pronti nel corso della stimolazione a fare un monitoraggio continuo completo anche giorno per giorno e anche nel weekend perché perché le cose più importanti possono succedere anche in quel momento e se noi non siamo pronti a vedere che cosa va o cosa non va non saremo in grado di correggere ciò che non sta andando bene faccio un esempio se durante la stimolazione il progesterone aumenta troppo e noi non se ne accorgiamo non siamo in grado di correggere qualcosa che può creare dei problemi nell'endometrio che diventa poco recettivo e poi anche se abbiamo dei buoni embrioni magari questi non vengono diciamo così recepiti bene dall'endometrio e quindi non c'è un impianto vero e proprio dunque ecco come intendo diciamo così il monitoraggio il monitoraggio deve essere continuo senza staccarsi e quindi arrivare al massimo della precisione della stimolazione della terapia delle procedure certo assolutamente e quindi quanto cambiano i risultati con la qualità e la personalizzazione delle terapie cambiano moltissimo intanto io volevo aggiungere a ciò che ho detto prima che se la personalizzazione è importante personalizzazione deve essere fino alla fine anche dopo il transfer per esempio valtare il progesterone perché non è che con il transfer è finito tutto se vediamo che c'è un progesterone un po basso a volte conviene integrarlo ma io mi sono accorto tantissimi anni fa che i risultati potevano cambiare drammaticamente con la qualità e la personalizzazione delle terapie e quindi questo noi lo vediamo ma poi è tutto il mondo che lo dice il problema è quello effettivamente di farlo tutto questo quindi avere la pazienza avere la costanza di personalizzare e credere veramente che i risultati possono essere molto differenti cioè migliori se aumenta la qualità di quello che facciamo con la personalizzazione e anche qui farò qualche qualche esempio personalizzazione voglio dire anche nel laboratorio non è uguale prendere uno spermatozoo qualsiasi ed inserirlo nell'ovocita per far avvenire la fecondazione quindi un embrione quindi trasferire questo embrione la scelta dello spermatozoo soprattutto quando c'è un caso molto difficile è un qualcosa che deve essere fatta con estrema pazienza con estrema competenza responsabilità e diciamo così esperienza perché dalla scelta dello spermatozoo più adatto più idoneo può dipendere proprio la qualità del dell'embrione che si forme dunque il destino il destino finale insomma se ci sono degli ovociti che non sono ancora maturi ecco il biologo deve avere la pazienza di farlo maturare e quindi poi di effettuare la fecondazione al momento giusto ecco noi abbiamo visto che anche nei casi più difficili abbiamo anche pubblicato in questo senso nei casi anche di donne più avanti di età oltre i 40 anni siamo riusciti ad avere almeno un 10 per cento di parti per ciclo proprio perché abbiamo personalizzato molto poi abbiamo verificato anche la media dei risultati italiani che sono pubblicati in maniera ufficiale dall'istituto superiore di sanità ebbene è la percentuale dichiarata di parti per ciclo per questa fascia di età oltre i 40 anni era del 4,7 per cento ecco questo ci conforta e ci fa capire quanto la personalizzazione influisca sulla qualità e anche sui risultati delle nostre terapie perfetto e professore quali sono gli elementi che fanno capire ai pazienti che le terapie proposte sono state personalizzate ecco io la ringrazio davvero tanto di questa domanda perché è una domanda importantissima naturalmente una coppia e non non può sapere tutto non è un medico non ha gli strumenti per capire se veramente la personalizzazione si sta facendo si sta facendo bene ma nonostante questo ha qualche elemento sul quale riferirsi e riflettere anche e quindi io vorrei dare dei piccoli consigli pratici in modo tale che anche la coppia può rendersi conto insomma se davvero si sta personalizzando oppure no ecco per esempio si accorge non solo su se stessa se ha già fatto dei tentativi precedenti che non sono andati bene e se si sta facendo lo stesso protocollo ma anche confrontandosi con altre coppie e se si sta usando lo stesso protocollo beh il dubbio c'è che non si stia personalizzando anzi laddove c'è stato un fallimento precedente è ancora più importante personalizzare dopo aver capito il perché non c'è stato il risultato ma cambiare anche il protocollo e la seconda cosa è sapere capire chiedere se si lavora anche nel weekend sabato e domenica e allora lì si può capire se c'è l'abitudine il protocollo giusto per personalizzare e poi un'altra diciamo così osservazione pratica è se dopo il transfero degli embrioni si fa qualcosa per capire come sta andando la procedura ecco se si continua a essere seguiti anche dopo il transfer beh certamente la personalizzazione si sta attuando ecco certo la ringrazio professore per il suo intervento e per i suoi consigli e niente approfitto anche per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere un consulto tramite il servizio di telemedicina una visita presenziale con il professor claudio manna attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma top doctors grazie mille professore grazie a voi tutti per la pazienza grazie grazie a voi grazie a voi